Ragazzi quanto sono sgrave le skill transformation livello 75 Cioè qua siamo alla fase finale del torneo Arena of Gold Questo sin le sta prendendo, si trasforma, si refulla e inizia a shottarlo Cioè si capovolge completamente lo scontro Ovviamente l'alto cleric non è livello 75 E inizia a shottarlo Cioè un tipo di skill di questo genere i coreani possono accompagnare solo Comunque questi sono dei tornei che vanno svolti regolarmente Cioè non è un evento Da Honor Point, Kina, Expo, Abyss Point e Leceranion nuove Sono proprio dei tornei che sono strutturati in questo modo Cioè si inizia, ognuno fa gli scontri contemporaneamente E poi si aspetta il CD di quell'altro Nel senso quando tutti e due hanno finito di fare il proprio turno Si va avanti così fino alla fine Non so i perdenti quanti Honor Point prendono Io immagino in base a quanti ne hanno sconfitti di fasi In quante fasi ne hanno vinto E prenderanno anche loro immagino qualche Honor Point e qualche Celanio Comunque ragazzi, cioè io sono rimasto sconvolto Perché comunque le skill si le avevo viste dai video Ma non le ho mai viste in azione Cioè praticamente ti capovolge tutto un match Quindi sono veramente una cosa sgravissima Va bene dai ragazzi Ci vediamo sul server e expate, expate, expate Ciao ?